Si avvicina il Corpus Domini e Aspello le infiorate. Ad inaugurare la settimana dei fiori lunedì 1 giugno alle 17 ci sarà la presentazione di Etica, la birra ai fiori di Sambuco prodotta dal micro birrificio etico 19 di Spello, etichettata come birra ufficiale delle infiorate 2015. Altra grande novità della festa del Corpus Domini Spellano realizzata in collaborazione con la cooperativa agricola sociale La Semente di Spello si chiama Infiorautismo e prevede come ha spiegato il presidente dell'associazione Infioratori Guglielmo Sorci la creazione di un vero e proprio giardino botanico degli infioratori che sarà curato dai giovani autistici che frequentano il centro diurno della semente che si dedicheranno alla coltivazione di fiordalisi e altri fiori utili agli infioratori per la realizzazione delle proprie opere. In attesa dell'evento Clu nel weekend del 6 e 7 giugno vengono riconfermate le numerose iniziative collaterali già collaudate negli ultimi anni, quasi tutte gratuite e ad ingresso libero. Tornano le mostre concorso di ricamo floreale Flower Cake Design al Museo delle Infiorate, le mostre fotografiche a cura del circolo cinefoto Amatori Spellum e di Marianna Santoni che cura anche il workshop fotografico della Lunga Notte dei Fiori e ancora gli abbellimenti floreali di finestre, balconi e vicoli fioriti a cura della Proloco e la musica dal vivo. Nel weekend del 6 e 7 giugno tornano i golosi e raffinati menù floreali nella taverna degli infioratori ma anche le visite guidate notturne ai siti d'arte e ai tappeti floreali, il trenino turistico dai parcheggi e aree e sosta camper ai principali punti di ingresso della città. Ai giardini pubblici riapre la mostra a mercato di florovivaismo e articoli di arredo esterno e come sempre i ristoranti e gli esercizi commerciali resteranno aperti tutta la notte e fino all'alba. Non saranno soltanto i giovani umbri ad essere coinvolti nei lavori e nello spirito delle infiorate, infatti per realizzare un tappeto fiorito sul suolo spellano arriverà anche una delegazione di giovani infioratori direttamente dalla città di Noto con cui l'associazione ha stretto un gemellaggio volto a valorizzare e promuovere la tradizione artistica delle infiorate.